Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video, io sono Uka e oggi siamo in un nuovo video di, aspettate, BB Eros, non possiamo ballare l'altavosa né stendere, perché andate a vedere il video di Eterna Fiamma. Hola Si sta la vecchia Non mi ronga Non mi ronga Non mi ronga Ma ciao Ma cattiva Ma Bottle of Oh No Ma non, io ti dico no Non mi ronga Non mi ronga Chczeva l'inverno video Oh dio Può stare Sa atta Posso sparare Non Mon scatole io quando questo gioco fa schifo c'è un vecchio con la sedia a rotelle aiuto non ci sa più cosa non ci sa più cosa tu? ti giuro che? ti giuro vedete la password che mi fa con me hanno visto la password e la cambi ok, loro sono bravi tu sei ciuccio guardate un po' oggi facciamo un po' di battaglia on-line on-line questo è il mio deck nel prossimo video credo mi farò sempre come arrivare in Arena 6 con questo deck no, però oggi è arrivato un mio amico quindi io faremo tre battaglie ma non giocheremo la cosa corona perché è troppo aiuto e io comincivo guarda il putto che mi insegue no, non l'hai fatto questa si l'ho fatto, lo sto rifatto contro un livello cominciamo con con la tecnica di questo deck è mongo sul cazzo cacchio duro che non c'è tra l'alero tra l'alai non credo che vingerà perché non prende bene qua però 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 ma però ma però ma però guarda che faccio la metto guarda dove la metto la furia guarda che faccio la metto vabbè io ce l'ho fatto che ero gigante ma non sono cominciato, no, ho sbagliato dai, dai eh, dopo lo devo metterlo vabbè, questo è curioso oh, negli ultimi giorni sono uscito almeno tre epiche o quattro tre epiche o quattro guarda c'è un cavolo vuol stare a registrare? no, dove? a registrare vai con una bella foretta che non vuoi ragazzi? tu in che clan stai? i prezzemoli ma cosa? i prezzemoli? il bagasurto io attacco ok, what the fuck, che è successo? non è successo niente la gente è stata sorrita in questo mondo eh, il mio stregone ha il 4 perché non lo uso mai, non lo potenzio mai e perché non c'è potenzione di acqua sì, ma tua nonna prova l'accesso grazie a tutti No, 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 no. facciamo un amichevole dai faremo un amichevole io torno a fiamma ok ci sto mi allontanerò così saprò che cosa vuol dire vuol dire e lo dai no 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 non è giallo wow 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 il car la donna bella ha ha nah cosa ha fatto cosa ha fatto e torna a fiamma colgo da te e cinque è un jazz dai finiamo in tifo royal ti immagini finiamo in tifo royal tipo oh proviamoci la tua torre re deve restare la vita no 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 non te lo distruggo ti giuro non te lo distruggo quei barbari faili attaccato mi hai partito al teto no ma quei due barbari faili attaccato e dove tu devi vincere quando le è rimaste un canone no ma no adesso non devi vincere adesso ma cosa io ti devo cercare di fare quei tre poveri cristiani farli attaccare dai e andiamo attendo e andiamo attendo andiamo attendo andiamo a vedere andiamo alla continuo poi provo dopo di tornare vinto cosa non guarda non guarda non guarda non vengono io non ho toccato non è vero che città ma devi vincere ma ti faccio vincere contento neanche persone ma proprio quando devono attaccare i barbari oh bye bye ciao ma non l'ho voluta distruggere mi non è perso mi ha dato bucayale perchè sono un barretto guardate quanto è cattivo questo bimba vi vediamo nel prossimo video ciao hola ciao 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 ciao